Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici di Emergency, un saluto e un ringraziamento particolare a Gaia e a Stefano di Emergency Siena che mi hanno segnalato questa bella iniziativa di 100 parchi aperti per Emergency. Io sono Angelo Petraglia e insieme ad Ashti Aldo e Francesco Forzani abbiamo dato vita nel 2014 al progetto Beja. Beja significa che incurdo all'incirca raccontami, racconta e quindi è un progetto musicale che nasce innanzitutto dall'esigenza di raccontare e raccontarci umanamente e musicalmente. Prima di lasciarvi a una breve performance in solitaria, quindi prima di lasciarvi alla musica e augurarvi buon ascolto, vi ricordo la cosa più importante, questo momento Emergency come sempre e più che mai è impegnata nel fronteggiare emergenze e in questo caso l'emergenza più evidente è l'emergenza Covid. Anche Emergency sta dando il suo contributo e ha bisogno del nostro, del vostro contributo. Quindi vi invito a fare una piccola donazione, piccolo grande in base alle vostre disponibilità e ai vostri desideri e vi sono personalmente grato. Per tutte le informazioni necessarie, per informarvi maggiormente sull'attività di Emergency e per capire come contribuire trovate il link qui che ho postato sotto il video. Vi ringrazio, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.